Sottotitoli e doppiaggio Carlo Fanni Grazie a tutti Padre Celeste, grazie per averci dato l'opportunità di discutere di queste cose Illuminaci con lo Spirito Santo per comprendere e interiorizzare ciò di cui abbiamo bisogno da Te Nel nome di Gesù, Amen La Bibbia parla di un tempo come mai prima E penso che stiamo vivendo in un tempo come mai prima È così brutto che nessuno avrebbe mai immaginato diventasse così brutto Ma dietro questo piano malvagio c'è una strategia brillante Perché porterà molti a credere all'errore Se Dio non ci darà discernimento, saremo nei guai Nessuna denominazione, compresi gli aventisti, sarà immune da questo inganno Sin dall'inizio abbiamo detto di essere degli osservatori Guarda queste cose Sì, inorridisci Ma nel modo giusto Chiediti dove porta e dove si va E quando l'abbiamo capito Allora possiamo stare con Dio Per il vero pericolo che si nasconde dietro le quinte Oggi parleremo di risvegli veri e falsi Ma c'è un filo che attraversa tutto E che può far arrabbiare la gente E questa gente, di conseguenza, sceglierà la soluzione proposta da Satana Una delle cose che sta irritando l'umanità È la mentalità woke Nelle scuole è fatto così bene per influenzare i bambini Dicendo segretamente ai bambini che in realtà sono transgender Cercando di manipolarli in una certa direzione E se i genitori se ne accorgono Possono arrabbiarsi eccessivamente E schierarsi con una soluzione che sembra moralmente giusta Ma che in realtà porta alla morte Come hai detto all'inizio Attraversa le denominazioni e le fedi È coinvolto il movimento LGBTQRSTUVZ Come ai tempi biblici Non c'è nulla di nuovo sotto il sole In passato, questo problema ha portato ad un'enorme reazione L'intera tribù di Beniamino Tranne 600 uomini Fu spazzata via Come conseguenza di questo pensiero È una cosa orrenda Il mondo va verso un cataclisma Ora proviamo ad unire le cose Noi vi avvertiamo Alcune cose potrebbero essere un po' inquietanti Ma abbiamo eliminato il peggio La cosa scioccante è che era sulla tv nazionale Perché l'intera popolazione deve esserne soggetta Non è solo una nazione qui e lì È dappertutto È un problema per cui la gente è disposta a spingersi Sino alla guerra nucleare Per proteggere determinati valori Una strategia molto geniale Satana è un brillante stratega Ma grazie a Dio è il secondo miglior stratega dell'universo Noi abbiamo una parola sicura Che ci avvisa che sta arrivando Cito un articolo del primo marzo 2023 È successo in Australia Un attore piuttosto transgender ha detto cose scioccanti sulla televisione nazionale con lo scopo di scioccare Qui c'è l'attore a destra a sinistra c'è qualcuno che non è felice per ciò che è successo Il programma viewers chiede le scuse dell'attore che parla male di Gesù in diretta Ruben Kaye è nei guai dopo aver fatto una pessima battuta su Gesù Kaye è conosciuto per il suo umorismo che ha scioccato il pubblico australiano con una gag piuttosto pesante sul figlio di Dio Noi ne parliamo per mostrare che c'è un piano per disgustare certe persone Devono essere irritati devono arrabbiarsi così tanto da reagire come farebbe un musulmano se dicessero cose del genere su Mohammed C'è un piano nascosto ecco perché ne parliamo Uno era mortificato l'altro scoppia a ridere Abbiamo le due parti Inoltre per molti telespettatori non è una cosa simpatica Il comico LGBTQVZ è stato criticato sui social media Hanno messo il più useranno tutto l'alfabeto Le persone LGBTQ precedono qualsiasi idea di Dio Siamo presenti nel regno animale quindi è divertente quando qualcuno mi dice di accettare l'amore di Gesù o brucerò l'inferno ci sarà una reazione opposta e quando arriverà sarà devastante sarà l'evento finale su questa terra le nazioni si stanno schierando non si tratterà solo di istituzioni religiose ma riguarderà anche il governo e la Bibbia ci dice chi guiderà guiderà la seconda bestia è in Apocalisse capitolo 13 verso 11 La seconda bestia di Apocalisse 13 è gli Stati Uniti d'America la guida protestante in tutto il mondo In America accadono cose sconvolgenti Nessuno pensa che l'America possa risalire e portare il pendolo dall'altra parte ma accadrà e quando accadrà tutte quelle nazioni pronte a combattere una guerra nucleare per proteggere i propri valori si uniranno a lei Cito mail online studenti scioperano in massa dopo i divieti della New Hampshire High School per orinatoi e spogliatoi condivisi in mezzo ai litigi sulla separazione dei bagni in base al genere sessuale non all'identità sessuale stanno distorcendo così tanto la realtà che per mischiare i sessi stanno vietando gli orinatoi Ovviamente ciò provoca un putiferio I ragazzi non sono più ragazzi e le ragazze non sono più ragazze Dove si va? Ad un certo punto qualcuno dirà dobbiamo fermare tutto questo Sta diventando ridicolo La protesta iniziò venerdì e durò 45 minuti con più di 150 studenti che hanno lasciato la scuola per opporsi alle nuove restrizioni per i bagni Tutto nasce dal dibattito del consiglio scolastico sulla separazione dei bagni e degli spogliatoi delle scuole in base al genere sessuale alla nascita o all'identità sessuale Il fatto che il consiglio scolastico discuta di queste cose è piuttosto triste Vediamo come discutono queste persone Loro discutono sulla nomina del preside Ora, la persona più adatta nella guida come preside della scuola è molto qualificata ma sfortunatamente è nato maschio e pensa di essere maschio Vediamo cosa dicono Credo che il signor X sarebbe un ottimo preside Tuttavia, ritengo che l'elezione dell'unico maschio bianco in questo consiglio di amministrazione Invii un messaggio sbagliato alla nostra comunità Un messaggio contrario a ciò che il consiglio cerca di realizzare E' importante mettere in pratica ciò che predichiamo Se tu fossi qualificato per essere il preside ma fossi nato maschio e ti identificassi maschio darebbe il messaggio sbagliato Purtroppo non potresti avere il lavoro E' solo per mostrare quanto il pendolo abbia oscillato a sinistra Quale sarà la reazione di quelli a destra? Perché non lo si può separare dalla religione E' una questione morale Quando parliamo di religione negli Stati Uniti saranno gli evangelici In Russia saranno gli ortodossi A Roma sarà il cattolicesimo E' una cosa importante In altre nazioni potrebbe essere un mix di tutte In Africa saranno le chiese carismatiche e conservatrici Nei paesi dell'est sarà buddista Sikh o musulmano eccetera La religione avrà un ruolo fondamentale Ora riassumiamolo è una questione morale e la religione ne è profondamente coinvolta C'è anche il movimento LGBT più coinvolto Poi deve esserci anche il mondo dello sport perché lo sport è una religione E' la messa in scena dell'epopea di Gilgamesh Che sia il Super Bowl o qualunque cosa la gente prega per vincere e che gli altri possano perdere Le persone prendono decisioni in base alle loro convinzioni religiose Gli sportivi rifiutano questa agenda perché va contro la propria religione Il giocatore di hockey dei Philadelphia Flyers rifiuta di indossare la maglietta LGBT Rispetto le scelte di tutti La mia scelta è di restare fedele alla mia religione E' tutto Sembra ragionevole ma la folla woke è furiosa Questo non è buono L'ok è per tutti Se non sei d'accordo con i diritti dei gay non va bene O ci sei o non ci sei Inoltre Mi spaventa che una persona lo faccia per le sue convinzioni religiose Perché le vite di quelle persone di solito fanno vomitare Quell'uomo era arrabbiato Perché quel giocatore doveva identificarsi con il movimento LGBTQW XYZ Poi è accaduto Ma non lo abbiamo mostrato Che qualcuno aveva sentito questo commentatore e voleva vomitare per ciò che lui aveva detto Abbiamo due gruppi che vogliono vomitare Uno dice Se non stai con noi vomitiamo L'altro dice Se stai con noi vomitiamo Ma c'è un altro dettaglio Perché Satana ha una zona grigia Lui potrebbe portare i liberali alla religione Dio invece non ha una zona grigia Con Dio è nero o bianco Ma con Satana c'è un'area grigia Ora parliamo delle chiese Cito The Guardian La chiesa d'Inghilterra considera l'uso di termini neutri sul genere sessuale di Dio Loro valutano se smettere di riferirsi a Dio usando il maschile singolare Il sacerdote ha chiesto di usare termini neutri per il genere sessuale Non si sa cosa sostituirà il termine Padre Nostro nella preghiera che si dice che Gesù abbia detto ai suoi seguaci e che si usa da millenni Si dice che Gesù abbia detto pone dubbi sulla veridicità che Gesù l'abbia detta davvero Io disprezzo questo linguaggio ma non mi schiererò perché guardo dove sta andando Le chiese sono infette I critici conservatori sono contrari a questo cambiamento Il genere sessuale non può essere neutralizzato senza perdita di significato nella frase ci sono due opinioni due opposti il pendolo oscillerà dal liberale al conservatore perché la gente e persino le nazioni saranno inorridite da ciò che accade le nazioni faranno la guerra nucleare piuttosto che accettarlo se lo usi come abbiamo sempre detto il re del nord contro il re del sud lo si deve usare in forma spirituale perché se fosse letterale non lo si potrebbe applicare non si capisce cosa accade questo è il secolarismo del re del sud dal 1798 il re del sud il secolarismo ha spinto contro il re del nord ma ora il pendolo oscillerà la bibbia dice che quando il re del nord prenderà il potere saranno coinvolti i militari perché arriva con cavalli con carri e con tutto il resto questo è un bellissimo addempimento della profezia guardiamo dove sta andando ora parliamo delle nazioni ascoltiamo ciò che dice Putin ovviamente parla in russo leggete i sottotitoli lui inizia dicendo loro mentono sempre pervertono la storia e attaccano la nostra cultura di cosa si preoccupa? vediamolo la storia Familiare, signori, signori, che sono tutti i nostri spettatori e non s'epponso, e che cosa faccio dire. Ci voglio dire che ci voglio dire. Vesci, come voglio dire, abbiamo bisogno di essere, come voglio dire. Abbiamo così connesso in Russia e sempre che non voglio dire. Niente in casa in una vita non riuscita, e non lo sopire. No, voglio dire, guardarmi la sua ricerca. mировых религий. Там всё сказано, в том числе то, что семья – это союз мужчины и джентия. Священные тексты подвергаются сейчас сомнению. Как стало известно, Англиканская церковь например, планирует рассмотреть идею гендерно-нейтрального Бога. Что тут скажете? Прости, Господи, не vedo, что творят. Миллионы людей на Западе понимают, что их ведут к настоящей духовной катастрофе. Элиты, ну, прямо надо сказать, просто сходят с ума и это, похоже, уже не лечится. Но это их проблема, как я уже сказал, а мы обязаны защитить наших детей. И мы сделаем это, защитим наших детей от деградации. КОНЕЦ Путин Риассуме Л'Интеро Проблема ДЕЛ'Олджиденте И ДИСЕ ЧЕ Л'Олджиденте ФАТУТО И ПЕДОФИЛИ СОНОЛА НОЛА ДИСЕ ВОЛっち И ДИСЕ МЛЯ Реrance Реоф Ра 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 Рх l'Ucraina e come l'Occidente sta reagendo, inviando armi, carri armati, probabilmente aerei in futuro, intensificando la questione. Tutto ciò fa parte del piano. Sia chiaro che la Russia non è il re del nord. Il re del nord è il papato cattolico che usa il potere militare per far oscillare il pendolo. Ad esempio, Trump è stato accusato di essere filo russo. Biden ha recentemente parlato in Polonia come un grido di guerra. Nel partito repubblicano, i conservatori, dicono di smetterla di dare tutte queste armi all'Ucraina. Quindi c'è una lobby contro la guerra, in gran parte di conservatori. Prima però, come per l'Iraq, eccetera, i conservatori erano a favore della guerra, ma ora è il contrario. I liberali spingono per la guerra. Questa è una strategia brillante. Trump ha detto che se dovesse diventare presidente, questa guerra finirebbe in un giorno. Perché direbbe, Putin, hai assolutamente ragione. Questa assurdità deve finire. E se ci fosse una rivoluzione dei conservatori e l'intero sistema si spostasse alla parte religiosa conservatrice, tutto ciò che serve è una potente miscela religiosa nel movimento. Così l'Occidente e l'Oriente potrebbero unirsi su una questione e potrebbero dire, finalmente l'Occidente ha capito, possiamo collaborare con loro. Ma ci devono guidare gli Stati Uniti. Ecco perché negli Stati Uniti deve salire al potere un gruppo che rafforzerà i valori cristiani. In Occidente deve esserci un movimento che si sposterà verso il lato conservatore. Succede in Europa? Cito l'articolo di gennaio. L'italiana Meloni è la quarta leader più popolare al mondo. Giorgia Meloni ha un indice di gradimento del 48%, il quarto più alto tra i 22 leader mondiali. Quindi la popolarità delle norme familiari sta guadagnando terreno. Ora si sentono calpestati, ma si rialzeranno. The Times premia la Meloni, da pericolo alla più popolare d'Europa. Il primo ministro Giorgia Meloni è passata dall'essere considerata un pericolo a diventare il leader più popolare d'Europa. Lei dice, dobbiamo tornare ai valori della famiglia, alla religione. Vuole osservare il giorno di riposo e servire Dio. Il pendolo oscilla. Anche Macron, lui sta solo recitando il suo ruolo, perché è addestrato dai gesuiti. Loro sono tutti attori. Ora andiamo al 2008, quando il cosiddetto padre del movimento religioso negli Stati Uniti, Rick Warren, fece una previsione. Nel 2008 sembrava improbabile. Oggi sembra ancora più improbabile, ma dietro le quinte è molto probabile che accadrà. Devi capirlo attraverso l'occhio profetico, altrimenti ti sbaglierai. Il futuro del mondo non è il secolarismo, è il pluralismo religioso. Potrebbe non piacerti, ma dovrai conviverci. Il mondo diventa più religioso, non meno. Il mito che, con l'aumentare dell'istruzione, la religione diminuisce, è un mito. Influenza miliardi di persone. Malattie pandemiche, povertà estrema, analfabetismo, corruzione, riscaldamento globale, vuoto spirituale. Noi non possiamo risolvere questi problemi senza coinvolgere i fedeli e le loro istituzioni religiose. Non si può parlare di sviluppo della comunità senza parlare di chiese, di moschee, templi e sinagoge. Non puoi parlare perché loro sono la comunità. Quindi la mia sfida per voi è, possiamo andare tutti d'accordo? Possiamo lavorare insieme? Io non devo condividere la tua motivazione e tu non devi condividere la mia. Per lavorare su povertà, malattie, analfabetismo e cose del genere. Francamente non mi interessa perché fai del bene finché fai del bene. In che occasione stava parlando? Sullo sfondo c'è il Forum Economico Mondiale. È fantastico. A quei tempi non te ne accorgevi. Ma ora tutti lo avranno notato. Il World Economic Forum è controllato dal Papa. Anche Rick Warren è controllato dal Papa. Loda Papa Francesco e la Chiesa Cattolica. E oggi è coinvolta in un altro risveglio che avviene negli Stati Uniti. Qualsiasi religione deve essere incorporata. Questo è un movimento ecumenico mai visto prima. Oggi questo movimento ecumenico è ovunque, in tutte le chiese, compresa quella ventista. Tutti quei movimenti religiosi sono coinvolti. Gli Stati Uniti, il mondo protestante e il mondo evangelico guideranno, ma saranno così manipolati da avere la mentalità ecumenica. queste cose non sono invenzioni, ma è realtà. Sappiamo che al governo molte volte si dice che bisogna separare la Chiesa dallo Stato. Ma abbiamo un'amministrazione che non lo crede. Abbiamo un sindaco che sentirete a breve, che è sicuramente uno dei prescelti. Lui crede in ciò che la comunità basata sulla fede può fare assieme al governo. Non parlarmi di separazione tra Chiesa e Stato. Lo Stato è il corpo, la Chiesa è il cuore. Togli il cuore dal corpo, il corpo muore. Non posso separare il mio credo perché sono un funzionario eletto. Quando cammino, cammino con Dio. Quando parlo, parlo con Dio. Quando metto in atto le politiche, lo faccio considerando Dio. Io sono così. Ero così. Da bambino. E lo sarò quando lascerò il governo. Sono ancora un figlio di Dio e sarò sempre un figlio di Dio. E non mi scuso per essere un figlio di Dio. Non succederà. Quindi, oggi proclamiamo che questa città, New York, è un luogo dove il sindaco di New York è un servitore di Dio. Grazie. Vediamo cosa dice il New York Times su quella discussione. Adams, che parla di fede, respinge la separazione tra Chiesa e Stato. La colazione interconfessionale organizzata dal sindaco Eric Adams, inizia abbastanza normalmente. Con varie canzoni. Poi ha parlato un rabbino, un leader buddista e un musulmano. Poi la cosa è diventata surreale. Ma l'amministrazione di Adams non crede nella separazione tra Chiesa e Stato. Il signor Adams, cresciuto frequentando una chiesa nel Queens, si identifica come cristiano, ma senza denominazione. Lui ha anche un approccio cattolico alla spiritualità e al misticismo. Ha almeno una statua di Buddha. Ha parlato dell'energia emessa dalle pietre. C'è detto che c'è un'unione tra il dragone, il misticismo, la bestia, il cattolicesimo e il falso profeta, il protestantesimo. E il mix perfetto. Confusione babilonese. Il dragone rappresenta Dio padre nella falsa trinità. Dio padre. La bestia rappresenta il figlio. Tutti devono inchinarsi davanti a lui. Lui è il re. È incoronato. Ha la triplice corona in testa. E ricevette la ferita mortale nel 1798. Poi risorse. Quando Mussolini restituì lo Stato al Papa. Il mondo si meraviglierà di lui. Ogni ginocchio si piegherà. È il falso figlio. Poi c'è il falso profeta, il protestantesimo apostata. Loro tre governano. E colui che siederà sul trono, la bestia, riceverà tutto il giudizio. E si dovrà accettare il suo marchio. Riguardo al falso profeta, c'è un falso spirito. E tutti devono unirsi. Questo sindaco sembra avere un po' di tutto. Ha il misticismo, l'adorazione del dragone. Ha il cattolicesimo, l'adorazione della bestia. E si identifica come cristiano senza denominazione, il falso profeta. Tutto insieme. Ora coinvolgiamo anche il mondo dello spettacolo. Vediamo le grandi star del cinema e vediamo dove andiamo. Bentornati. Oggi è mercoledì delle ceneri, l'inizio della quaresima per molti cristiani. Mark Wahlberg è con noi. Oltre ad essere attore, produttore e imprenditore, è anche narratore, ospite e portavoce per l'app di preghiera cattolica chiamata Hello. In questa stagione Mark guida gli ascoltatori sulla pratica del digiuno. Come parli loro della fede? Semplicemente non lo faccio. Io non li forzo. Prima era, tutti devono frequentare la scuola cattolica, dobbiamo andare a messa ogni domenica, ma questo può creare del risentimento. Io voglio che ci vadano in modo naturale. Papà deve iniziare la sua giornata mettendosi in ginocchio. È la priorità la domenica è di andare in chiesa. Essere in grado di fare quelle cose e poi vederle, speriamo che si interessino e lo facciano da soli. Quindi, per chi non capisce la quaresima e le idee sul digiuno e il distacco, perché, che siano cattolici o no, devono unirsi a questa sfida? Tutti dobbiamo unirci, soprattutto dopo il Covid. La gente vuole stare lontana. Io voglio gravitare verso le persone di ogni estrazione sociale e tutti abbiamo bisogno di qualcosa che ci unisca. E Dio è l'unico che continua a promuovere amore, inclusione, perdono e accettazione. Non importa che tu sia o quali siano le tue convinzioni, questa è un'opportunità per riunirsi, pregare e rendere il mondo un posto migliore. All'inizio di quest'anno, il progetto di Mark Wahlberg, Padre Stu, la storia di un pugile che trova Dio e fa battezzare la sua famiglia, ha avuto enorme successo al botteghino. Ora Sony sta riportando il film nei cinema. Questa è una mossa strana, pubblicare l'uscita del film nello stesso anno in cui è stato originariamente pubblicato. Come mai questa decisione? Il film non poteva essere visto da tutti. Molte famiglie non potevano vederlo con i loro figli, ma volevano che ricevessero il messaggio. Quindi, poiché l'arcivescovo Thomas Del Nevada, che aveva ordinato Padre Stu, mi ha detto, Mark, capisco le parolacce, ma sarebbe un peccato che i giovani non vedano questo film, capendo l'importanza di questa storia. Quindi volevamo assicurarci di poterlo condividere con ragazzi di tutte le età. Così abbiamo editato il film, eliminando 200 parolacce, ma il film è sempre di grande impatto. Martin, ti piacerebbe partecipare ad un film dove devi dire 200 parolacce per renderlo reale? Lui ha detto che senza era la stessa cosa, ma loro non possono fare in quel modo. Mark ha anche detto che non importa a quale religione appartieni, finché riguarda la spiritualità. E se fai certe cose e segui certi rituali, allora sei considerato una persona religiosa. Lui promuove la quaresima, 40 giorni di digiuno. Il digiuno non è totale, ci si astiene da ciò che normalmente piace mangiare. Invece il principio protestante è che Gesù ha pagato il prezzo. È l'adempimento della legge. Gesù ha digiunato 40 giorni, ma se io digiuno per 40 giorni è salvezza per opere. L'idea del digiuno di 40 giorni sembra essere una cosa universale. L'Islam ha il Ramadan. Dobbiamo avere fede in Gesù e nelle sue opere compiute. Ciò non significa essere disubbidienti e indecenti perché, se mi amate, osservate i miei comandamenti. Queste sono cose che creano l'impressione che tu sia religioso. Lui è apparso con la croce del mercoledì delle ceneri sulla fronte. Sta dando un messaggio e fa parte del teatro dei gesuiti, che è Hollywood. Quindi sono coinvolti Hollywood, lo sport, le chiese, i governi e i militari. È coinvolto tutto ciò che, in base alla Bibbia, farà il re del nord. Leggiamo Daniele, capitolo 11, verso 40. Al tempo della fine, ne abbiamo già discusso, e secondo le scritture è iniziato nel 1798 d.C., quando il papato ricevette la ferita mortale e il potere politico del papato fu tolto. Cioè non poteva più essere chiesa e stato. E da quel momento chiesa e stato sono separate. Le conseguenze sono il caos totale. Abbiamo il movimento woke e tutto ciò che ne segue. Ma la gente inizia a capire che la separazione tra chiesa e stato non funziona. Tutto iniziò con la rivoluzione francese, con il secolarismo che prende il sopravvento, rifiutando la religione. E Napoleone invase Roma e tolse il potere secolare al papato. Al tempo della fine, il re del sud, il secolarismo, si scontrerà con lui. Li toglierà il potere. Il re del nord verrà contro di lui. Lui si vendica. La situazione si ribalta. Il pendolo oscillerà verso il secolarismo con la sua agenda woke che stiamo vedendo. Il re del nord verrà contro di lui. Lui sta guidando un movimento religioso. Il re del nord è il potere della bestia. È il falso figlio. È l'anticristo. E guiderà il movimento con il dragone. La bestia è il falso profeta. Contro di lui come un turbine con carri. È l'esercito. Abbiamo minacce di guerra per la questione morale con Putin che difenderà la moralità. Parla della Bibbia e dei libri sacri del mondo. Non esclude gli altri sistemi religiosi. È cavalieri. Ciò include i militari. È con molte navi. Questo include l'economia. penetrerà nei paesi, li inonderà e passerà oltre. Le nazioni sono coinvolte. Entrerà pure nel paese glorioso e molti saranno abbattuti, ma queste scamperanno dalle sue mani. Edom, Moab, è gran parte dei figli di Amon. Perché negli ultimi giorni tutte le nazioni del mondo si sono spinte verso il cristianesimo. Dio ha il suo popolo che è ancora in Babilonia. Questa è la parte religiosa. La gente deve discernere cos'è l'inganno e cos'è la verità. E quando lo capirà non potrà far parte di Babilonia, perché è il falso movimento. E ne usciranno. Vediamo dove si va, perché diventa molto eccitante. Cito il Detroit Catholic sul grande risveglio di Asbury. Gesù era proprio accanto a me. Il risveglio di Asbury infiamma i cattolici con lo Spirito Santo. Questa è un'istituzione metodista, ma infiamma i cattolici. Quindi abbiamo il falso profeta e la bestia. Un'università del Kentucky è diventata il centro per ciò che migliaia di persone chiamano un misterioso movimento dello Spirito Santo. I cattolici locali dicono che l'esperienza è profonda. Sai subito che Dio è lì. Dall'8 febbraio, una normale riunione matutina in cappella presso la Asbury University, un'università cristiana di arti liberali nel Kentucky, è diventata una sessione di preghiera con lode, adorazione e testimonianze 24 ore su 24. I cattolici laici cercano di fare la stessa cosa, specialmente come la Chiesa Cattolica americana entra nel secondo anno del risveglio nazionale dell'eucaristia, che includerà il decimo congresso nazionale eucaristico in Indianapolis a luglio 2024. Puoi basare la tua fede sui sentimenti? Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa. Penso che ci sia un modo per legare questo al risveglio dell'eucaristia. Non si può prendere parte all'eucaristia. Lo stesso sacrificio sulla croce, il sacrificio di Gesù, non è efficace? Qualsiasi cosa abbia a che fare con l'eucaristia è come colpire la roccia due volte come fece Mosè. La stanno colpendo milioni di volte. Molto è stato scritto e detto sul risveglio di Asbury, quindi riassumiamolo in un video e vediamo cosa dicono. Perché ci sono molti profeti che in passato hanno detto cose sbagliate, ma che sono ancora considerati profeti. E dicono che questo risveglio è l'inizio di ciò che accadrà nel mondo. Siamo a Wilmore, Kentucky, per assistere ad un'effusione dello Spirito Santo nel campus della Hasbury University. E mi ha mostrato come sarebbe stato questo risveglio, questo soffio del respiro. Ho visto il fuoco di Dio venire ai giovani della nostra nazione. I campus universitari, i fuochi del risveglio hanno cominciato a bruciare completamente dalla base, spontanei, guidati da nessuno, controllati da nessuno, pianificati da nessuno. Dio ha iniziato a librarsi su queste università. Ho ascoltato queste testimonianze ed è successo qualcosa di strano. Lo spirito che è in Hasbury è venuto da me. Due giorni fa sono andato a fare una trasmissione sentendomi solenne, silenzioso e muto. Ho capito che quella presenza di convinzione stava già lavorando in me, solo per essere stato esposto alla natura virale del risveglio che sta avvenendo. L'ultima volta che è successo ad Hasbury era a febbraio del 1970. Ironicamente è stato subito dopo che i Kansas City Chiefs hanno vinto il Super Bowl. E non collego le due cose come un atto divino. Sono strane coincidenze. Il risveglio di Hasbury è andato a 130 diverse università. È importante perché, includendo Ohio e Austin, diversi campus dicono che stanno avendo una simile effusione dello Spirito di Dio. Io ho appena ricevuto un messaggio che dice che il movimento dell'ultima pioggia del 1948 è iniziato al giorno di San Valentino, in questo giorno nel 1948. 75 anni dopo, nel 2023, il giorno di San Valentino è proprio nel mezzo di un risveglio. 75 anni dopo è iniziato il riversamento dell'ultima pioggia. Noi siamo ad una convergenza divina. Questo è solo l'inizio. Questa nazione è matura. La gente è disperata, è pronta al cambiamento. Il nemico ha giocato troppo. La gente è spaventata, ha paura, è confusa, è preoccupata per i loro figli, per i loro soldi. È come negli anni 70, con le rivolte e il movimento per i diritti civili, con i giovani arrabbiati col governo. Siamo di nuovo lì. C'è disperazione. L'America e altre nazioni sono mature per il risveglio. Sta arrivando. Siamo alla pienezza del tempo. Siamo al momento giusto. 50 anni fa accadde qualcosa di straordinario in un campus universitario. Abbiamo bisogno di Dio per cambiare i loro cuori, per cambiare la direzione della nostra nazione. Per favore, unisciti a noi per questa giornata di preghiera. Unisciti a noi nella preghiera per questi giovani. Credi che Dio possa riversare qualcosa di nuovo attraverso il potere delle nostre preghiere. Unisciti in diretta dall'Università Hasbury. Signore, fallo ancora. C'è questa chiesa, si chiama Calvary Chapel. Noi cerchiamo la verità. E se fosse vero? Perché tutto ciò che abbiamo provato non funziona. Quello che ho sentito lì dentro. E se va bene per un minuto? E poi basta? Possiamo scoprirlo insieme. Il paese è un luogo scuro e diviso. Ma in quella tenda c'è speranza, unità e miracoli che non so spiegare. Una notte stavo pensando, voglio fare qualcosa che abbia valore, oltre ad interpretare un ruolo che mi piace. E la mattina dopo mi arrivò questa sceneggiatura. Se ti senti emarginato, unisciti a noi. Un meraviglioso ricordo per me. Io lo ricordo. Ricordo la Jesus Revolution e tutte le turbolenze degli anni Sessanta. Bene. Quanto è coinvolta a Hollywood? Abbiamo gli attori che recitano la parte di Gesù, eccetera. E ci sono molti video con quegli stessi attori. E la maggior parte di loro è cattolica. Unire il mondo. Questo è un movimento enorme. E se questo fosse il movimento finale? Il raduno finale di Babilonia? E la gente non lo sa. È un orrendo inganno. È spaventoso. Cito da Il Gran Conflitto. Molti dei risvegli dei tempi moderni hanno un finto contrasto con quelle manifestazioni della grazia divina che, ai primi tempi, seguivano le fatiche dei servitori di Dio. È vero che si accende un interesse diffuso. Con molte presunte conversioni e molti vanno in chiesa. Tuttavia, i risultati non giustificano la convinzione che ci sia stato un corrispondente aumento di vera vita spirituale. Dopo un po', la luce si spegne, lasciando un'oscurità più densa di prima. Le stesse influenze hanno operato in misura maggiore o minore e si manifesteranno nei movimenti più estesi futuri. C'è un'eccitazione emotiva, un mix di vero e falso ben adatto per ingannare. Questo potrebbe essere stato scritto oggi. È così brillante. È incredibile come non si riesca a vedere l'ispirazione di queste frasi. Eppure nessuno deve essere ingannato. Non appena capisci che, attraverso la Bibbia, una goccia, una piccola goccia di errore... Ora, con il risveglio di Asbury, la comunità lesbiche, gay, bisex e trans è coinvolta. Ci sono video che dimostrano che sono loro ad averlo avviato. È spirituale perché incorpora errore, verità, cattolicesimo, protestantesimo e misticismo. Tutto. Finché hai la sensazione e lo spirito. Ma in verità è la parola di Dio ad essere la norma. Cito. Alla luce della parola di Dio, non è difficile determinare la natura di questi movimenti. Quindi la parola di Dio è ignorata e sostituita dallo spirito. È solo un sentimento. Non è la parola di Dio. Martin, tu provieni da quel movimento, dove gli uomini trascurano la testimonianza della Bibbia, allontanandosi da quelle verità che mettono la prova all'anima e che richiedono abnegazione e rinuncia al mondo. Lì siamo sicuri che non ci sia la benedizione di Dio. E dalla regola data da Cristo, voi li riconoscerete dai loro frutti, è chiaro che questi movimenti non sono opera dello Spirito di Dio. Adorare nel rumore. Il Signore mi ha mostrato che le cose che mi hai descritto accadere in indiana accadranno poco prima della fine del periodo di prova. Ogni cosa brutta sarà mostrata. Ci saranno urla con batterie, musica e balli. I sensi degli esseri irrazionali saranno così confusi che non ci si potrà più fidare per prendere decisioni giuste. E questo è chiamato il movimento dello Spirito Santo? Noi non abbiamo mostrato i video di tutte queste testimonianze. Ci sono gli LGBT e va bene tutto. E a prescindere in cosa credi e a quale genere sessuale pensi di appartenere, ricevi questo Spirito. Questo Spirito non proviene da Dio. Lo Spirito Santo non si rivela mai in tali metodi e in un tale rumore. Questa è un'invenzione di Satana per nascondere i suoi metodi ingegnosi, per rendere inefficace la pura, sincera, esaltante, nobilitante verità, santificante per questo tempo. Meglio non adorare Dio con la musica piuttosto che usare strumenti musicali per fare il lavoro che lo scorso gennaio mi è stato rappresentato sarebbe stato portato nelle nostre riunioni da campo. La verità per questo tempo non ha bisogno di queste cose per convertire la gente. Ora vediamo cos'è accaduto nelle istituzioni aventiste, dove le star ate entrano nelle nostre istituzioni e cantano. Fanno così rumore come se Baal avesse perso l'udito. E ci dicono che non importa se adori Dio il giovedì, il venerdì, eccetera. La cosa triste è... Oh, gli aventisti erano contenti! Abominio! Cos'è the same God over Saturday Is the same God over every day Do me a favor, look at your neighbor Make sure to hear, say, pick your Sabbath, pick your Sabbath Pick it, pick it Cos' you can make me doubt him If you gotta do it on Monday, keep it Know too much about him You're about to make me run like a Pentecostal, I'm sorry But you can make me doubt him Boa noite a P.E.E.C. Boa noite a P.E.C. Boa noite a P.E.C. Espada pelo Senhor! Gli aventisti sono in pericolo Dovremmo essere più pronti È una cosa molto triste Una volta, l'ho raccontata molte volte Ero in una delle chiese aventiste più grandi in America E il pastore non era molto contento che parlassi Ma mi avevano invitato i giovani Il pastore è sul palco con un orecchino che pendeva fino a qui La camicia sbotonata fino a qui Con una chitarra elettrica intorno al collo E penso, dove sono? Era una chiesa aventista americana Molto grande Con un pastore molto importante Mi diedero dieci minuti Io racconto la mia storia Ma l'interrompo al culmine Scusate, ho solo dieci minuti Quindi gli studenti insistono perché parlassi più a lungo Dico loro che il pastore non vuole che io parli più a lungo Ma infine i giovani fecero un tale putiferio Che io parlai per un'ora e mezza Ovviamente sul palco c'era un'enorme batteria Eccetera Uno studente mi chiede pubblicamente Cosa ne penso di questa cosa Rispondo che sono felice di vederli Poi continuo con il mio discorso Erano sbalorditi Ma dopo un po' dico Probabilmente vi chiederete Perché mi fa piacere vedere Queste batterie e questi strumenti musicali Sono felice di vederli Perché lo spirito di profezia Dice che appena prima della fine del tempo di prova Le batterie entreranno nella chiesa aventista Quindi sono felice di vederle Perché significa che presto torneremo a casa Popolo di Dio Per favore svegliati Alla legge e alla testimonianza Osservano i comandamenti di Dio E si attengono alla testimonianza Hai la verità Perché ci vivi accanto? Per favore svegliati E per favore Noi ora dovremmo essere separati Non assomigliare al mondo Non partecipare Sì, un osservatore Però con i giusti principi Una confusione di rumore Sconvolge i sensi E perverte ciò che condotto correttamente Potrebbe essere una benedizione Quel cantante correva come un pollo Che aveva perso la testa Urlando a squarciagola Era rumore E il suo messaggio era Non importa se ad ori di sabato O qualsiasi altro giorno Parlando contro la parola di Dio E quegli aventisti festeggiavano Accade all'interno di una chiesa aventista Che proclama che Dio ha santificato Il settimo giorno Il sabato E' triste Noi non lo facciamo per colpire la chiesa Ma per far svegliare gli aventisti In Germania questo accade da anni Hanno anche gare su quale gruppo grida più forte Per premiarli Quella non è la chiesa Ma è una guida appostata nella chiesa Dio ha la sua chiesa all'interno di questa chiesa E ci sarà uno scuotimento Speriamo che questa gente Prenda le giuste decisioni E ritornino al Signore Altrimenti Lasceranno la chiesa E si uniranno a quei falsi risvegli Non facendo più parte del rimanente E molta gente che partecipa A quei falsi risvegli Si sveglierà E prenderà il loro posto I poteri delle agenzie sataniche Si uniscono al frastuono e al rumore E questa si chiama L'opera dello Spirito Santo Quando è finito il raduno Il bene che avrebbe dovuto essere fatto Mediante la presentazione della Sacra Verità Non è compiuto Chi partecipa al presunto risveglio Riceve impressioni che li portano alla deriva Non possono più dire ciò che sapevano prima Sui principi biblici Nessun incoraggiamento dovrebbe essere dato A questo tipo di adorazione La stessa influenza arrivò dopo il 1844 Furono fatte le stesse rappresentazioni Gli uomini si eccitarono Furono mossi da un potere Che si pensava fosse il potere di Dio Nonostante il declino della fede e della pietà In queste chiese ci sono dei veri seguaci di Cristo Chiariamo questo punto In quei risvegli Senza dubbio ci sono molti cristiani sinceri Ma quando si confrontano con la parola Devono scegliere la parola piuttosto che i loro sentimenti E quando vivranno secondo la luce che hanno Dio li chiamerà Loro prenderanno il posto degli avventisti Nella nostra denominazione Persone che si rifiutano di accettare la luce Per tutti questi anni Prima della visitazione finale dei giudizi di Dio sulla terra Tra il popolo del Signore ci sarà un tale risveglio spirituale Come non si è visto dai tempi apostolici Lo Spirito e la potenza di Dio saranno riversati sui Suoi figli A quel tempo molti si separeranno dalle chiese In cui l'amore di questo mondo Ha sostituito l'amore per Dio e la Sua parola Molti pastori e laici accetteranno volentieri Quelle grandi verità che Dio ha fatto proclamare in questo tempo Per preparare un popolo alla seconda venuta del Signore Il nemico delle anime vuole ostacolare quest'opera E prima che venga un tale movimento Si sforzerà di prevenirlo Introducendo una contraffazione Lo sta facendo? Sembra che la speciale benedizione di Dio sia effusa Si manifesterà ciò che si pensa Essere un grande interesse religioso Moltitudini diranno che Dio sta operando meravigliosamente per loro Mentre l'opera è di un altro spirito Sotto una veste religiosa Satana cercherà di estendere la sua influenza sul mondo cristiano E sugli avventisti Che Dio ci aiuti a svegliarci Per discernere i tempi in cui stiamo vivendo E fare in modo che il popolo di Dio ricordi da dove proviene Ricordi i pilastri della nostra fede Il messaggio che ci è stato dato Non per partecipare a questo Ma per mettere in guardia e avvertire sul marchio della bestia Per avvertire contro questo falso sistema di adorazione Il messaggio dei tre angeli riguarda l'adorazione Adorate colui che ha fatto Non adorate chi ha l'agenda inclusiva con peccato e giustizia insieme Non può essere Che il popolo di Dio si svegli Preghiamo Padre Celeste Viviamo ai confini del tempo E presto ci sarà un massiccio risveglio religioso in tutto il mondo Che porterà la gente alla perdizione Allora ci sarà lo scuotimento Con l'effusione del vero Spirito Santo Con una voce forte che proclamerà Uscite da essa, oh popolo mio Affinché non abbiate parte ai suoi peccati Aiutaci a far parte del vero risveglio È la mia preghiera nel nome di Gesù Amen Sottotitoli e doppiaggio Carlo Fanni Sottotitoli e doppiaggio